La globalizzazione è un processo che porta alla maggiore integrazione delle economie e aumenta la reciproca dipendenza, politica, sociale e culturale, tra i paesi del mondo. Nel corso della storia sono sempre esistite forme di globalizzazione, come per esempio l'apertura delle rotte oceaniche, ma negli ultimi anni tale processo ha raggiunto una portata mai vista prima. Questo fenomeno si è affermato grazie allo sviluppo dei trasporti, delle merci, delle persone, dei servizi e della comunicazione. In questo senso la diffusione di internet ha giocato un ruolo decisivo. La globalizzazione è un processo complesso che ha permesso la diffusione di valori culturali, come la difesa dei diritti umani e la condivisione delle conoscenze scientifiche, e ha favorito l'apertura della maggior parte dei paesi al commercio mondiale, migliorando la cooperazione internazionale. La globalizzazione ha però anche causato una erosione delle identità locali, a vantaggio di modelli culturali dominanti, che si sono diffusi globalmente grazie a martellanti campagne pubblicitarie. Le grandi multinazionali tendono inoltre a delocalizzare le loro attività nei paesi in via di sviluppo, dove il costo della manodopera è più basso. In questi paesi i lavoratori sono spesso sottopagati e costretti a ritmi di lavoro incessanti. Nei paesi più sviluppati il trasferimento della produzione finisce per produrre un aumento della disoccupazione, con conseguenti tensioni sociali.